Con tre giorni di posticipo rispetto alla tradizionale data del 21 giugno, la Guardia di Finanza di Pesaro Urbino ha celebrato questa mattina il 248esimo anniversario della Fondazione delle Fiamme Gialle. Un anniversario procrastinato per non sovrapporsi a concomitanti e cerimonie che ha consentito di fare il punto su un anno e mezzo di lavoro intenso tradotto in numeri. Dalle 550 indagini per illeciti economico-finanziari agli 80 soggetti denunciati per reati tributari agli annessi 10 milioni di euro di beni sequestrati. E ancora l'individuazione di 50 evasori totali completamente sconosciuti al fisco, così come di 60 indebiti per settori di reddito di cittadinanza. Numeri che si allungano a 20 persone denunciate in materia di riciclaggio, agli accertamenti patrimoniali su 47 soggetti in applicazione della normativa antimafia, fino al contrasto al traffico di stupefacenti e alla contraffazione che hanno portato a sequestrare un chilo complessivo di sostanze e due milioni di prodotti industriali contraffatti. Un impegno che ora si aggiorna a nuove criticità, da quelle derivate dai bonus edilizi agli abusi sui fondi PNRR. La Guardia di Finanza ormai da diversi anni si è evoluta sempre più in una forza di polizia, a me piace chiamarla forte vocazione sociale, proprio perché è prossima di vicinanza ai cittadini e alle imprese oneste e corrette. Ovviamente in questo lavoro la nostra azione è poliedrica e a 360 gradi, ovviamente durante il periodo della pandemia e poi adesso con l'emergenza sanitaria che si è innestata, anche una emergenza ormai planetaria direi, anche la Guardia di Finanza ha evoluto ovviamente la sua azione e quindi dalle attività che consome dell'attività in materia fiscale, a contrasto quindi dell'evasione, dell'elusione, si sono poste in essere delle iniziative ovviamente più puntuali in merito a tutti i bonus e quindi agli incentivi che le autorità di governo ovviamente hanno iniettato nel sistema economico. In tema di evasione fiscale, Blandini valuta così la provincia di Pesaro Urbino. Sicuramente un territorio ritengo sano, con una ovviamente propensione all'evasione che è fisiologica ritengo, quindi non individuo situazioni di particolari criticità, però dobbiamo anche tenere presente che in momenti soprattutto di particolari criticità economica ovviamente la nostra azione deve essere sempre più presente perché nei momenti di particolare debolezza ovviamente le infiltrazioni della criminalità che non esiste soltanto la criminalità organizzata, esiste anche una criminalità economica aggressiva che ovviamente potrebbe ledere quello che è invece un territorio sano fatto da persone che lavorano in maniera corretta, ma noi siamo appunto a presidiare anche nei confronti di quella fisiologica attività di evasione che ovviamente è presente ovunque. È stata anche una mattinata di encomi alle fiamme gialle pesaresi distintesi per particolare valore e abilità in alcune operazioni. Sono stati premiati Leonardo Nardella, Vito Scattaglia, Michele Ripoli, Salvatore Panico, Antonio Di Benedetto, Simone Zanzani, Vito Quacquarelli, Salvatore Tescione, Leonardo Trippetti, Antonio Ricchetti, Domenico Saccone e Stefano Grassi.